Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il bianco e rosso TV Sport. Ovviamente abbiamo ancora sulla pelle la scottatura per la precoce eliminazione dai play-off. Oggi i giornali sono pieni di notizie che allungano anche ombre sul futuro stesso della società. Abbiamo preparato anche una piccola rassegna stampa che condivideremo con voi, però nel frattempo vorrei salutare il mio ospite, una bandiera del Bari, Toto Lopez. Ciao Enzo e buona giornata a tutti. Toto, allora, diciamo che si fa fatica a smaltire quello che era tutto. Ancora non mi rendo conto perché... Toto, ho ancora in mente di andare allo stadio mercoledì per Bari-Frosinone, non mi passa la mente. Io ero già preparato perché poi veramente ero convinto che almeno contro il Cintadella, almeno questo turno lo dovevamo passare. Poi ne parleremo e sinceramente c'è tutto da discutere. Per quel finale poi mi è rimasto negli occhi, quel finale lì se lo potevano evitare. Quella rissa in panchina, non va bene, non va bene. Poi se parleremo di Bascia perché Bascia è il capitano. So che ci erano molto colpite le dichiarazioni di Bascia. Allora, è possibile riproporre le dichiarazioni di Bascia? Ecco qua, abbiamo qua poi il commento di Toto Lopez. Bascia. Sì, però la squadra soprattutto è un po' delusa per il fatto come è arrivato questo meno due, perché ci è rimasta diciamo male, perché alla fine qualcuno ci diceva che è tutto a posto, però se tu prendi un meno due credo che qualcosa di non quadra. No, l'unica cosa è che questa attesa è stata veramente snervante, perché il fatto di rimandare poi il playoff è stato veramente lungo, la squadra non vedeva l'ora che arrivasse questa partita. Noi, ripeto, andiamo a casa per il semplice fatto che l'unica squadra che ha preso meno due siamo stati noi, quindi è un peccato, veramente un peccato, perché credo che la squadra ci stava, poteva fare molto bene questi playoff. Di quello che sapevate voi lo sappiamo anche noi, non è che passavamo di più, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, purtroppo se alla fine ti succede, ti arriva questo meno due, c'è qualcosa che non quadra. Comunque qualcuno continua a ribadire che era tutto a posto, ma credo che non era tutto a posto, perché se noi andiamo a casa l'unico problema, certo tu mi dirai sì, potevi vincere la partita, però se avessimo giocato in casa sarebbe stato completamente diverso. Ragazzi, l'unica cosa che so, io che so è una scadenza, ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata da nessuno della società, che sia Presidente, Direttore, l'unica cosa che so è che adesso abbiamo le vacanze. Purtroppo saranno veramente vacanze brutte, perché uscire così, veramente la squadra ci è rimasta male, perché questo fatto del meno due non l'ha digerito. È curioso, è abbastanza tipico che un dipendente scarichi in questo modo sul suo datore di lavoro, perché in realtà si capisce che sono stoccate, che fa riferimento alla società. Troppo forte, troppo forte per me, delusione totale. Ma chi gliel'ha data la fascia di capitano? Devo chiedere, chi gliel'ha data? Il capitano non si fa così. Dalle sue dichiarazioni mi fa capire che proprio è anche un punto dolente per la squadra, perché se questo signore mi parla in questi termini, oggi c'è stata una dichiarazione di questo tenore, da parte di Pokesci, l'allenatore della Ternana, un allenatore molto vulcanico, che ha detto che il Bari non è stato eliminato per chissà cosa, è stato eliminato perché in campo non ha mai avuto un leader. Hai ragione. Dice Pokesci. Ma se questo Basha, perché uno, io l'ho fatto il capitano, insomma. Qualche partita il capitano l'hai fatta, insomma. Visto che Ingersson l'ha fatto il capitano, per avere la fascia devi dimostrare ai tuoi compagni di saperlo fare. Siccome l'ho fatto tanti anni, l'ho dimostrato, e so benissimo che lo facevo come si deve fare, ma questo signore è un incapace. E Pokesci ha ragione perché adesso i due punti che addossa le colpe alla società, questa è una cosa gravissima. Caro amico Basha, se ti arriva, tu devi pensare che quando vai in campo tu e i tuoi compagni dovete pensare a giocare a calcio, non hai due punti. Poi dove avevi la certezza che anche se giocavi in casa col Cittadella, perché anche questo mi suona male, eri sicuro di vincere, però non ti puoi basare sulla partita del Cittadella, perché il campionato è fatto di 42, se non sbaglio, partite. Caro amico, l'impresa che dite di aver fatto arrivare al sesto posto, per me è un fallimento. Tu dovevi arrivare ancora nella zona alta, perché qui stiamo prendendo in giro una città. Cioè, qui sono passati più 100 giocatori, non lo so. Ma qual era l'obiettivo di questi signori? Qual era l'obiettivo? Di salvarsi? Dice, siamo arrivati i sesti, ma è un campionato mediocre come questo qua? Cioè, dove voleva arrivare? No, Enzo, io sono arrabbiato perché questa di bascia è stata, come dire, la ciliegina di un campionato, di un campionato, ricordiamoci le ultime, va a vincere a pescare 2 a 0, è pareggi, quella in casa, amico, è colpa vostra, colpa vostra del signor allenatore. Per me l'allenatore ce l'ha proprio sul groppone, questa promozione che secondo me, tolto l'Empoli e la potevi far diretta, perché quando ti perdi quei punti, sono pesanti, Enzo, bastavano quei punti che tu hai pareggiato, dovevi essere bravo, non nelle dichiarazioni, dovevi essere bravi in campo, non l'hanno mai dimostrato. Io ti dico la mia, io l'ho detto anche in intramissione, per me il Bari non era da promozione diretta, però poteva giocarsi alle play-off, per me Frosinone, Palermo, qualcosina in più del Bari sicuramente ce l'ha. Quando abbiamo visto che Frosinone e Palermo erano andati in disgrazia, tu dovevi anche approfittare, in quel momento trovavi squadre, alla tua portata, hai trovato lo Smezzo, i Propercelli, Enzo, il Pescara, io ho visto quella di Pescara e vincere. Con la Salernità, ormai salvo 1 a 1 in casa. Ma dai ragazzi, ma per sopporti. Prendiamo telefonate, pronto? Pronto? Pronto. Eccoci, ciao. Chi è? Chi è? Bascia, no? Pronto? Eccoci, ciao, parla, parla pure, parla. Non sono Bascia. Oh, Pietro Maierdiaro! dai, non so credere. No, che sorpresa, che sorpresa. Pietro, Pietro. Come andiamo? Toto, ma stai da tutte le parti, stai, Toto, ma io non lo so. Io mi presenti, in ogni zona del campo, Pietro, non ricordi? Vabbè, era un tuttologo, non lo so. Sei molto sparo, qualcuno. Il regista, il regista, in tutte e per tutte, è un regista. No, ieri stavamo insieme, siamo arrabbiati, e lui, perché siamo stati a pranzo insieme, discuteremo di questo. Sì, è d'accordo con te, Pietro, sulla storia di Basso? Penso di sì che sia d'accordo, no Pietro? Ma dai, è troppo facile scaricare alla fine, hai avuto un campionale per vincerlo, hai avuto un campionale per fare due punti in più, anche se l'avessi, io posso capire, se fosse stata l'ultima giornata, e tu ti giocavi la Serie A direttamente, posso anche capire, ha sbagliato la società, lì, va bene, gli ci ha fatto un errore gravissimo, ma dai, c'è un campionato intero, potevi fare qualche punto in più, no? Per non andare a giocare al contrario, per non andare a giocare in traspelta, insomma. Vabbè, sono scuse troppo banali, e ci vuole, per fare anche qualsiasi cosa, a livello di calcisti, come non ne parla, ci vogliono le palle. Bravo Pietro! Bravo Pietro! Se le palle le dimostri, solo quando ti servono, non ti va niente. Intanto ti stiamo mandando, guarda che immagine abbiamo di Pietro Meghellaro, guarda quant'era. Lascia bene, se no... Guarda che be' raga, Bruno, Giovincello, se no le lacrime sono tante, lascia bene, se no finica qui la birra e non si è mai tolta dallo sole. Però io ti vedo, insomma, ti mantieni bene, per l'altro in campo, mi dicono che quando hai fatto le partite con le vecchie glorie, sei sempre uno, uno che invece gioca ancora oggi al calcio. Vabbè, come dicono i vecchi di una volta, la classe non è acqua, dicono la classe non è acqua, ma quella che c'ha, Totò è cristallina. È cristallina, vabbè, vabbè. Senti, ma com'è come opinionista Totò Lopez, Pietro? No, a parte la sua passione, che è molto attaccato, ci tiene tantissimo al territorio, che poi alla fine dei conti ci vorrebbero quelle persone lì, quei soggetti lì, andiamo a prendere in questo calcio, solo, e questo è un virgolettario, che solo a Bari succedono queste cose qua. Cioè quelli che fanno parte e che amano veramente la società e il Bari Calcio, i tifosi, non esistono, non ci sono da tutti. Invece in tutte le parti d'Italia aiutano le proprie società. Qui invece a Bari non esiste, perché ognuno ci deve mettere il suo. Nel calcio ci vuole oltre la conoscenza, ci vuole la passione, ci vuole la voglia, ci vuole la determinazione, ci devi rimettere anche, di tasca tua, ci devi rimettere qualcosa, veramente ci tiene alla tua causa. E' così, Pietro, è stata una bellissima sorpresa, ma stai a Bari, scusami? No, no, se non sei venuto. Bravo, la prossima volta che stai a Bari, fatti sentire, fai un regalo personale. ma posso, comunque ho parlato, ho detto, va bene, però non mi fai una domanda su cosa pensi. Ti vuoi fare una domanda? Una domanda, cosa ne pensi quello che è successo? Dai, forza. Cosa ne pensi? Che mi viene da ridere, mi viene da piangere, tutto insieme. Ma cittadello che avresti combinato tu da giocatore del Bari, non mi capisci. Ma da cittadello, ma solo il paragone, ma basta solo il paragone della città, Bari, cittadella. Cioè, già non c'è partita, è già finita. Cioè, non esiste che i giocatori siano andati lì a andarsi a giocare, a farsi, a farsi imbottigliare in quel modo lì, a farsi condizionare. Poi alla fine, infatti, glielo dicevo a Totò l'altro giorno, voi vedrai che prenderanno l'altro quattro giornate ciascuno. Infatti, hanno preso tre o quattro giornate. È vero. Cioè, si sono fatti, come si dice, il vecchio detto, cornuti e mazziati. Cornuti e mazziati, hai ragione. Non mi dispiace, ma non esiste. Ah, le immagini che stiamo mandando in onda, ti ritrovi però con la maglia della Fiorentina, numero 8, quando sei venuto a Bari da ex, ti donava il viola, stavi bene. Mi donava più il bianco rossa, al torsario. Mi donava più il bianco rossa, sicuro. Senti, Pietro, posso dire, Pietro, ma perché, dai, tanto sei vicino, vieni uno di questi giorni qua, domani, dopodomani, e facciamo un trio, io tu Enzo. Guarda, facciamo di tre ore la trasmissione, allunghiamo in via straordinaria. vabbè, non mi provocare, vabbè, allora facciamo così. Se vuoi ti vengo a prendere io, Pietro. Vabbè, noi organizziamo, dai, sentiamoci domani, ci mettiamo d'accordo per dopodomani. Dai, 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 Pietro, vediamo. Pietro, un abbraccio forte, grazie per essere stato. Un abbraccio a voi. Grazie, grazie a Pietro Maiallaro, nel nostro cuore. Grazie, grazie a tutti noi insieme. Grande, Pietro, grazie a tutti. Pregoci insieme con il Biancherosso TV Sport, dopo l'intervento, come al solito, simpatico e significativo di Pietro Maiallaro, in studio abbiamo, Totò Lopez, abbiamo veramente ricomposto un pezzo di storia brillantissima del Bari in pochi secondi. Ci sono le domande che giungono attraverso, intanto chiedo alla regia, se riusciamo a recuperare il sondaggio fatto ieri da Roberto Maggio, che viene via della città. Francesco dice di spendere una parola di conforto per Nini Piscopo, presidente dei Baris del Nord L'Espatriate, così si chiama il gruppo, perché ha perso suo padre. Un abbraccio forte a Nini, un abbraccio forte a Nini. Danilo, se non si paga le scadenze, cosa succede? Se non paghi queste scadenze, non ti puoi scrivere al campionato, su questo ci sono pochi dubbi, le scadenze di giugno. Gian Helt dice, visto che da Bari sono passati scecchi texani, monegaschi, malesiani e di Champions, ne abbiamo ormai abbastanza, per tornare alla nostra mediocrità. Cosa ne pensate dell'azionato popolare? Sarebbe il mio sogno l'azionato popolare, però sembra una cosa impossibile in questa città mettere insieme le forze vere, che sono quelle dei tifosi. Antonio, se Gian Caspro vuole la nostra fiducia, si faccia affiancare subito da Dottor Lopez e Antonio Di Gennaro. Poi possiamo ripartire anche dal basso. Giuseppe, questa società, peccato di presunzione, soprattutto di comunicazione, l'atteggiamento di Grosso nei confronti della stampa locale ne è la prova inconfutabile. Non ha parlato più Grosso? Sono d'accordo al 100%, qui c'è rimprovero la società, il Presidente doveva intervenire, doveva intervenire, poi si crea così la frattura tra società e tifoseria, perché è un altro elemento importante e il signor Grosso non si può permettere di andare ai microfono di Sky e ai giornalisti del territorio, di Bari, buttarli lì con una naturalezza che non mi ricordo in altri tempi. Quindi mi dispiace, Presidente, doveva intervenire, doveva intervenire perché, lo dico per mia esperienza, la città deve essere composta, un gruppo tutto unito, società, giocatori, tifoseria. Qui c'è distanza e non va bene, non va bene perché poi, quando vedo che vanno in 13.000, ti stai giocando la Serie A, in altri tempi non succedeva, mi vengono in mente i tempi di Zavettieri, erano 50.000. Quindi questa cosa è di grosso, di grosso. Sarei stato un mondiale, ma sicuramente hai perso tanto in questa tua esperienza barese, perché sei stato distante dalla città, ma io dico, ci aggiungo, l'ho detto anche nell'emittente dove ho lavorato quest'anno a Telenorba, dove ho detto che non si viene a Bari a fare il tirocinio, perché secondo me, io l'ho individuato così, a Bari si vince, si viene per vincere il campionato, e ti aggiungo Enzo, ti faccio un nome, se noi avevamo Cosmi qua, vincevamo il campionato, se avevamo un carattere del genere, che ha la gente, come ho visto nelle partite, che gli salta addosso, noi vincevamo il campionato, lui non si può stare lì con le mani così, ed essere inutile. Toto prova a fare un po' il bastian contrario, lo scorso anno c'era stato con l'Antuono, che carattere ce l'ha però... No, lui è venuto in corsa con l'Antuono, con l'Antuono, guarda io c'ho una mia idea, al signor Sogliano gli interessava un ragazzo, un giovane, per gestirlo come voleva lui, con l'Antuono non lo puoi gestire, non lo puoi gestire. Io mi ricordo questa cosa, che il dopo Parma, se non sbaglio, ha mollato tutto e se n'è andato. Evidentemente, non vedeva l'ora di antarsene, ma non perché nei confronti, credo, della città di Bara, perché ha avuto modo di parlare. Lui stimava questa città, è venuto in corsa, ma il signor Sogliano, ti ricordo, che Costellone era già, prima di iniziare, finita, quindi evidentemente anche lui nella gestione... È particolare. È particolare. Aspetta, aspetta ieri, in quel finale delle panchine, un direttore che sta in panchina, devi cercare di tranquillizzare tutti, non posso vedere giocatori che vanno ad aizzare di più, non è uno spettacolo decoroso. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, Enzo. Ciao. Buongiorno, saluto il tuo ospite, sono Luigi. Ciao Luigi, ciao. Parole tante di Totò, che è stato un grande calciatore, lo ha dimostrato sul campo, non ai microfoni, non ciò che fanno gli altri adesso, che si nascondono davanti alle telecamere, o si fanno vedere davanti alle telecamere. Volevo chiedere una cosa, siccome in una trasmissione di alcuni giorni fa, dove è intervenuto Antonio Raimondo, che lo stima di un grande giornalista, ed è intervenuto anche l'avvocato Biga. Perché adesso non si riesce a contattare questo avvocato che deve dare delle lucidazioni? Perché in merito, in quella puntata, lui sosteneva sempre che dava delle spiegazioni al giudice, non ad Antonello, che Antonello sosteneva, a suo malgrado, che il Bari aveva delle problematiche in corso. Quindi adesso volevo sentire l'avvocato Biga. Tutto buono, una buona giornata. Va bene, va bene. Buona giornata, grazie. Avvocato Biga, Francesco, se ci sei batti un colpo, altrimenti magari ti rintracciamo noi con calma domani. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto mostriamo la segna stampa di oggi, perché tutti i giornali parlano di incubo, fallimento, con Gian Caspro, obbligato a trovare un bel po' di soldi, pare, almeno da quello che si è letto, 5 milioni di euro in 10 giorni, perché deve ricapitalizzare, poi deve pagare gli stipendi, poi c'è la fiduzione da 800 mila euro, insomma, servono soldi. La domanda sulla Gazzetta dello Sport è Gian Caspro, che progetti hai? Dopo un'analisi della stagione, ci si proietta verso il futuro e poi dalle lacrime al rischio crack. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Un altro amico, Nino, scrive, ovviamente andranno via i vari Anderson, Anderson, Balcove, Zandrada, parte della perdita potrà essere recuperata da queste eccezioni e a noi rimarrà la solita scarsezza rappresentata da una serie di calciatori. Massimo, vorrei sapere se società come Bari e Palermo con un bacino d'utenza di milioni di persone nella ridistribuzione dei diritti televisivi vengono considerate alla stessa maniera di Parma o Empoli, con qualche migliaia di utenze, o città dell'Entella, con ancora meno persone. Dei piccoli distinguo ci sono, però una cosa è la serie A e un'altra, è la serie B. Alfredo ci chiede, abbiamo delle certezze societarie ad oggi? Ci sono molti punti interrogativi, so per certo che il Presidente Giancaspro incontrerà nei prossimi giorni Sogliano, in particolare Grosso, per fare il punto della situazione e per capire se potrà contare ancora su di loro. Credo che una presenza molto significativa agli occhi di Giancaspro sia quella di Sogliano, al quale dall'inizio del suo mandato ha praticamente delegato tutto il progetto tecnico, perché si sa, Giancaspro aveva poco a che fare con il calcio. Prendiamo una telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gigi Dabari, saluto a tutti. Allora, due domande voglio fare a Totò. Cosa ne pensa di Sogliano come di esse che ha costruito una squadra con quattro portieri, cinque centravanti di cui tutti insieme non fanno nemmeno i gol di carne, tre terzini destri, tre terzini sinistri, questi tutti sul libro paga, tutti sul libro paga di Giancarco. E cosa ne pensa di Grosso che è andato lì nel buio della notte senza parlare con nessuno, è andato in inverno a vedere Verona, Benevento, è andato a cena con l'amico del Verona, quindi c'è un fuggi generale, perché? Vabbè, facciamo così, facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria e poi le risposte di Dottor Lopez. Grazie. Eccoci insieme, eccoci insieme con il Bianca e Rosso TV Sport, abbiamo in sospeso un paio di risposte, però prima delle risposte di Dottor Lopez, come vi ho annunciato, mostreri il sondaggio per le vie della città, l'abbiamo registrato ieri, quindi la botta era calda, certo è che c'è gente nei pressi del mare che risponde a domande sull'eliminazione del Bari di Playoff, sentiamo. Questo pareggio del Bari, il Bari fuori dai Playoff? Guardi, non è solamente la partita di ieri che siamo andati fuori dai Playoff e da tutto, purtroppo abbiamo perso e pareggiato delle partite impossibili, tipo ad Ascoli. Immagino che Grosso si era studiato le preparazioni per le sostituzioni, però evidentemente chi è entrato è stato poco fortunato, l'hanno messa sui nervi quella del Cittadella e quindi... Il risultato è giusto, perché il Cittadella ha meritato di passare il turno, però per me la colpa è del Presidente, il Dottor Gian Casper, non so se è il Dottore... Secondo me hanno sbagliato la società che non doveva avere e perdere i due punti, altrimenti saremmo passati noi. Quando stava a Mattarese, Mattarese anche lui ha messo tutto per il Bari, ora si vede, togliamo un Presidente e ne mettiamo un altro. Una città di Bari, come Bari avere una città così grande che potevano combattere anche, non dico alla Cemis, ma almeno la Coppa UEFA. I grandi imprenditori, che noi ce l'abbiamo a Bari, però non vogliono investire, questa è la verità. E ci vuole un po' di coraggio anche per dire che noi abbiamo la città di Bari, bisogna investire... Ho il giocatore, sono 28 giocatori che c'è il Bari. Perché io non valgo al fronteo. Eh vabbè, uno non valgo. Beh, il Cittadale che cosa ha? Non c'entra noi. Ma dispiace, comunque speriamo che l'anno prossimo ce la facciamo. E allora, come sempre molto colorita le risposte, però torniamo a te Totò, perché il nostro amico prima ti aveva fatto una domanda su Soliano e una su Grosso. Cominciai con Soliano. Partiamo da Soliano. Soliano, io già dall'altro anno, l'altro anno ho detto che non mi servono tanti giocatori, 30 giocatori, per affrontare un campionato di Serie B, perché poi alla fine in tanti non giocano, e si crea più caos. Quindi non gli è bastato. Ha ripetuto anche quest'anno con tanti movimenti. Ci ritroviamo di nuovo i soliti 30 giocatori. Lì in attacco ne abbiamo, ha detto 5, se ne so anche di più, e messi tutti insieme non riescono a fare, non so, 10-15 gol, non sono riusciti. Ma è deleterio questa cosa qua. Perché? Non è che i tempi sono cambiati, perché la Serie B dove giocavo io non è diversa da oggi. Quando mi dicono, sai, cosa è cambiata? Noi abbiamo giocato per due anni, gli otti, i nove undicesimi, sempre i soliti. Allora voglio dire a Sogliano, caro Sogliano, dovevi puntare su 20-22 giocatori, ma giocatori bravi, tu hai voluto fare di più, non so perché, perché poi alla fine, non lo so, uno pensa, non voglio pensare male, però mi crei addosso dei problemi che mi fanno capire altre cose. E allora, proprio totalmente sbagliato quello che ha fatto in due anni il signor Sogliano. La promozione si fa, fatta bene, cioè calcolata bene, puntare ai giocatori bravi, lui non l'ha fatto, e quindi, secondo me, non so se gli darà ancora tempo il presidente, ma credo dopo questo è un fallimento che ha fatto il signor Sogliano. Grosso? Grosso, ho visto le sue incapacità, l'ho detto prima, Bari è una piazza che devi andare in Serie A, quando sento, sai, siamo arrivati dove volevamo, l'obiettivo nostro era quello lì, non sono d'accordo. Bari, se il signor Sogliano sbaglia lui, mi prende 30 giocatori, mi fa capire che l'obiettivo è diverso. Però, in grosso, l'ho seguito tutto il campionato, le sue incapacità me le ha messe in campo e quindi non posso parlare bene perché l'esperienza non è il settore geranile, la Serie B è tutta altra cosa. Ed hai detto una frase molto forte, secondo te con uno come Cosmi il Bari avrebbe fatto sicuramente qualcosa di più? Sicuramente, scusa, i giocatori hanno bisogno di motivazione, ma se un allenatore si mette lì ai bordi del campo con le braccia così non parla, non dice niente, non così nostalgia, ma a parte questo, ma proprio anche nella gestione della squadra, diciamo l'ultima, tu sei andato a Cittadella con un attacco Iacolano, Nenè e Galano, io non mi aspettavo, se tu vuoi andare a vincere la partita, non devi aspettare il cento, capito, la partita era in 120 minuti se finiva in pareggio, ma tu lo devi far subito, devi dare, come ha detto giustamente un amico, tu sei il Bari, e l'ha detto anche Pietro, Pietro ha detto tu sei il Bari, devi andare lì perché il Cittadella è un paesino da quattro gatti, la forza anche se poi gioca 11-11 sì, ma tu insomma le dimensioni del Bari sono ben diverse dal Cittadella, il Cittadella ha altri programmi, altri progetti, sono sicuro mica avevano in mente di andare in Serie A, ma se tu in campo mi metti una formazione del genere, già capisco inizialmente che faremo fatica per andare a cercare la via del gol, perché l'abbiamo vista, insomma, le azioni da gol l'ha fatto solo Sabelli, un'azione personale e poi basta, quindi. Ci sono anche le posizioni dei gruppi della Curva Nord, i Bulldog, non vi leggo tutto il comunicato, però diciamo che c'è il finale che va rimarcato, i Bulldog chiedono con fermezza che venga fatto tesoro degli errori commessi e che sia avviata una seria programmazione, noi teniamo ed apprezziamo i fatti e non le parole, evitando così i tempi di meglio l'eccellenza che questa Presidenza, che era un po' un tormentone che andava parecchio in voga nelle fasi critiche della gestione matarese. I seguaci della Nord scrivono invece in attesa di conoscere lo stato di avanzamento della decantata programmazione triennale, lo stato di salute delle casse societarie, invitiamo tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto di Bari Cittadella a non avvalersi del diritto di rimborso messo a disposizione dalla FC Bari. Al contrario delle tempistiche per pagare l'IRP e per versare i contributi IMSS, la nostra dignità non ha scadenza. Tutto il resto è fake news. Questa è la colorita diciamo posizione dei seguaci della Nord non so se abbiamo tempo per un'ultima telefonata 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica sì, prendiamo un'ultima telefonata pronto? Pronto? Ciao Enzo volevo dire una cosa vabbè ormai sui commenti sulla disfatta di questo campionato li avete fatti tutti ci sarebbe veramente una proposta seria da fare a questa dirigenza di fare un museo delle ceneri e far capire da Bari quali giocatori sono passati? Avete lì dei mostri sacri Toto Lopez Maiellaro Bivi Caricola Loseto ma si possono fare Di Gennaro sì e quando facciamo degli acquisti abbiamo un allenatore come Conte Ventura quando arrivano questi presuntosi qui farli girare far capire il palato dei tifosi del Bari io più volte sono intervenito e ho detto di grosso che secondo me lui era assente nelle partite non le leggeva quasi era disinteressato cioè voglio dire dove era il vigore e la trasmissione di un allenatore che deve motivare la squadra grazie per il tuo intervento anche se ora per dire le cose come stanno ci sono allenatori che hanno un modo di fare e allenatori che hanno un altro modo di fare poi bisogna capire quanto sono bravi e quanto non sono bravi a me piace l'allenatore alla Cosmi che in effetti avevo visto l'ultima partita da Ascoli in Tella l'Ascoli era morto però è rimasto in piedi fino all'ultimo all'ultimo secondo io dico che grosso commette gli errori che commette un allenatore che viene dal settore giovanile questa è la realtà sono d'accordo con te che Bari non può essere piazza da tirocinio no non è piazza da tirocinio veramente noi dovremmo avere più tempo a fare veramente una trasmissione perché si organizziamo io tu e Maglielaro posso essere la situazione no facciamolo io dico a Pietro dovremmo avere più tempo per analizzare perché poi sai sulla storia di grosso credimi quando tu hai sei attaccanti ne ho visto di cotte e di crude quando un nenetti fa golla a Perugia poi la domenica dopo lo metti in panchina va tutto male non è una buona gestione non è una buona gestione tu c'hai solo confusione quindi che significa che perdi punti il calciatore io l'ho fatto capito? sei incazzato avverti sei incazzato ma che devo fare io per giocare? succede quello allora anche come dicevo prima sia il Sogliano mi bastano tre non sei tre perché altre società altre squadre Donna Rumma e Caputa erano due poi c'era la cosiddetta riserva allora devi puntare su quelli su quelli capito determinanti per una squadra la base la base lui la base qui non è stata mai creata c'è stato solo caos su confusione ecco per grosso ma la prima esperienza se c'era Cosmi era diversa ma la prima esperienza lui doveva contentare come si dice tutti una domenica a te una domenica a lui aspetto la telefonata tua di Pietro Maglialaro facciamo una trasmissione guarda mi metto lì in mezzo tanto con i vostri assist posso segnare pure io grazie a Dottor Lopez grazie a te per essere stato con noi a domani con il Bianchi e Rosso di B Sport ciao grazie a tutti grazie a tutti